Va bene, vada. No, possiamo andare, faccio quello a sinistra scendendo, se vuoi vederlo. Allora, non mi ricordo più che traccia tutto facendo. Eh, non male. Fighetta, cazzo. Che fighetta, però. Adesso lo facciamo. Eh. Eh. Appunto. Mannaggia a me. Non potevo più chiamarmi da 190 e dopo quella. Non potevo più chiamarmi da 190 e dopo quella. Bene. No, sono arrivato. Mi sono preso male, ragazzi. Poi è il momento. È il momento di capire. Magari è meglio fermarsi un attimo. Quindi lo ritrovi dopo. Adesso andiamo a riprendere dietro. Che c'ha già fulminati Perché il bastardo è tirato. Ha tirato. Non fermarti, vai. Tanto lo faccio subito. Adesso direi morto. Bella, bella, bella. Bella, bella. È bella, bella. Eccomi. Sì. Solo che sono arrivato lì. Ah, che cazzo. Mi sono preso male. Poi sono tornato indietro e l'ho fatto. Ok. È la 25, vero? Sì. 25 è questa? Sì. Ok. Confermo che è la 25. Attenzione. Taglio e parte. Poi c'è un po' da dentro. Il filo di lui dove metto le ruote perché non vedo. Quindi è una giacchetta enorme. no. Comunque confermo, non le faccio a piedi pari eh. No eh sì. Se avete trena, io volevo inattarmi, ho penato. Il silenzio è per più di qualche seconda, per farvi godere i momenti. E con la cosa bella, comunque, scende sempre con qualcuno, uno perché vabbè, se mi fate male, c'è sempre qualcuno che può assistere. Ma poi potete dare un po' di assistenza, potete magari anche farvi forse di trezzine, assistenza. E' molto bella, bella. Magari ricordo tutta vicenda, però lì c'è la schiena un po'. Non è questo, non è questo, non è questo, non è questo. Taglio tattico. Minchia, scusa. No, ho detto taglio di lì. Lo sono proprio passato davanti, non l'ho visto. Lo fai? Si. Si. Queste sono anche le cose per cui la differenza tra una 200... In realtà è la 170, l'abbiamo detto nel video precedente, 180, poi c'eravamo corretti, credo. Che, anche su alcuni salti, anche se sei un po' più leggeri, quindi... No, sui così... Si senti un po' più tranquilli. Eh... Qua volta vuoi anche un po' preservare la bici, di non darsi troppo cattivo. E ancora si fa un'altra volta un pochettino. Ah, qua si pedala! Ciao! Ah, che bello il rapporto duro! E tu hai il cambio, però! Ah! Bastardo! E' la sole telescopica! I lussi della vita! Sei lì? Eh, si! Ah! Ah, ragazzi! Ragazzi! Questi siano muscoletti così! Ah! Cambio mollo! Voglio il camionello! 25... Diciamo che dopo aver finito il tutto pezzo di collegamento, qui hanno fatto una pista nuova, per favore. Per chi è una pista nuova. Sì? Ma ne ho scattata. Ma come se la... Ma come se la... Questa è un po' più strette, caro Pietro dov'essi spostato più il colpo Sì, molto, e se fosse piaciuto anche voi, mettete qui Ciao